Se volete dare un messaggio, deve essere un messaggio d'amore, un messaggio di pace. Io voglio catturare i vostri cuori, lasciate che i vostri cuori battano un'isola. Che tu possa avere sempre il vento in poppa, che il sole ti risplenda sul viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle. Avrai una sedia per posarti, ore vuote, come uova di cioccolato. E' un amico che ti avrà deluso tradito e ingannato. Avrai, 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 avrai. Caminierai dimenticando, ti fermerai sognando. Per essere quello che vuoi essere non c'è limite di tempo, comincia quando vuoi. Puoi cambiare o rimanere come sei, non c'è una regola fissa in questo. Possiamo vivere ogni cosa al meglio o al peggio. Spero che tu vivi al meglio. Spero che tu possa vedere questo sorprendente. Spero che tu possa avere emozioni sempre nuove. Spero che tu possa incontrare gente con punti di vista diversi. Spero che tu possa essere orgogliosa della tua vita. E se ti accorgi di non esserlo, Spero che tu trovi la forza di ricominciare da zero. Il vostro tempo è limitato, per cui non lo sprecate vivendo la vita di qualcun altro. Non fatevi intrappolare nei dogmi. Non lasciate che il rumore delle opinioni altrui offuschi la vostra voce interiore. E cosa è più importante? Abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione. Siate affamati, siate folli. Non permettere mai a nessuno di dirti di non saper fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Se vuoi qualcosa, vai, seguila. Punto. Quando gli spero, io penso che nel corso di tutta la storia la via dell'amore e della verità ha sempre vinto. Ci sono stati tiranni, macellari e per un po' possono sembrere invincibili. Ma la conclusione è che cadono sempre. Riflettici. Sg announca, sai, 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 sai. Sg Grazie a tutti.